era da tempo che non parlavo di attrezzi utili per la rigenerazione vediamo sempre gli stessi ma nell'anno 2019 che progressi sono stati fatti in realtà nessuno però oggi parliamo del nuovo kit rigenerabile della go for vape ci vediamo dopo la sigla ed eccolo qua ragazzi le kit della go for vape universal coil build kit con il quale potrete rigenerare qualsiasi tipo di atomizzatore in commercio dal video sembra abbastanza grande ma posso garantirvi che così non è le sue grandezze sono quindi le sue misure sono 18 centimetri circa per un'altezza mettendo in questo modo di 14 centimetri e poco più per quello che riguarda il contenuto infatti potrete vedere che realmente è così piccolo ma in realtà aprendolo si divide in tre quindi abbiamo ben tre settori all'interno adesso li andiamo a vedere uno per uno nei primi due settori abbiamo gli accessori quindi tutti gli utensili che utilizzerete per andare a rigenerare nella seconda parte potrete inserire in questo scompartimento quelli che sono cotone fili e coil e tanto altro tutto ciò che vi possa servire partiamo subito da destra e quindi con il supporto io lo chiamo semplificato quindi per aiutarvi e vi semplifica la vita soprattutto all'inizio io sinceramente essendo dalla vecchia scuola non l'ho mai utilizzato andavo direttamente con punta da trapano e filo però adesso devo dire che magari cominciando a rigenerare con un attrezzo del genere e vi semplifica la vita e quindi vi aiuta vi insegna a rigenerare nel modo corretto e senza fare delle coil mostruose già dall'inizio farete delle coil perfette questo come funziona innanzitutto va da 1 a 6 a seconda delle punte che andrete a utilizzare quindi potrete variare da una punta da 1 e mezzo fino a una punta da 4 quindi 1 e mezzo 2 2 e mezzo 3 3 e mezzo 4 e questo come basterà semplicemente andare individuare la punta quindi mettiamo il caso che la punta sia in questo caso da due andate a svitare il supporto più grande inserirete il supporto per la punta da due da qui farete passare il filo che poi andrete ovviamente a aiutarvi in questo modo basterà girare il filo e vi uscirà una coil praticamente perfetta questo è un attrezzo che ormai è presente in praticamente tutti i kit da rigenerazione ed è presente ovviamente anche qua mentre nel punto 2 troviamo le forbici vabbè forbicine che ovviamente vi serviranno per tagliare il cotone che secondo me è la pecca più significativa di questo kit perché perché sono realmente appuntite penso che le forbici in un kit da rigenerazione debbano essere rotondate per quello che riguarda l'unica pecca che ho riscontrato nel kit realmente sono le forbici anche perché non ho ancora trovato la forbice perfetta partiamo da questo presupposto poi abbiamo ovviamente la nostra pinzetta ricurva la nostra pinzetta in ceramica e abbiamo un supporto io la chiamo spazzolino è uno spazzolino in acciaio che non è presente in tanti kit ed è molto importante perché andrà a aiutarvi tantissimo qualora dovete andare a fare un'operazione di pulizia coil quindi in un dry barn dove andrete magari la coil è molto sporca soprattutto nelle coil complesse vi aiuterà tantissimo spazzolarla e quindi pulirla velocemente con questo spazzolino con l'ausilio dello spazzolino e c'è un semplicissimo supporto in gomma che va a proteggere i filamenti in acciaio abbiamo anche un cacciavite multiuso che è fatto davvero bene all'interno troverete sia le punte esagonali che ce ne sono due di diversa misura che cacciavite poi sarà a stella e italiano poi a seconda di quello che vi serve lo andrete a utilizzare è facilissimo l'utilizzo basterà smontare la parte davanti inserire la punta e rimontare la parte davanti ancora abbiamo la nostra tronchesina utilissima la tronchesina è fatta davvero con giudizio è fatta veramente bene veramente bene ottima la costruzione della tronchesina abbiamo ancora la nostra pinza con punte quasi diagonali e per finire nella parte sinistra troveremo questo che secondo me è uno dei punti forti di questo kit vi faccio vedere subito di cosa si tratta stendiamo il pad che ovviamente è compreso nel kit è un pad di cotone come quelli degli occhiali un po' più spesso forse e in questo supporto che loro chiamano monster build tool e si può comprare anche a parte potrete andare a inserire il vostro atomizzatore e da qua misurare la lunghezza delle gambette delle coil sì perché qui ci sono tutte le varie misure ovviamente espresse in millimetri e a seconda del tipo di campana e del tipo di atomizzatore potrete andare a misurarle da 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e così via e poi avete un supporto utilissimo dell'atomizzatore che è anche molto fermo e anche abbastanza poco ingombrante e per quello che riguarda il kit abbiamo anche un piccolo forse regalo magari coil perché sono comprese nel kit abbiamo delle coil in nickel da 0,3 sono due pezzi quindi essendo due pezzi abbiamo circa 0,15 in dual coil 0,15 0,18 con tanto di cotone non sono compresi fili e cotone nel kit però devo dire che comunque è un ottimo kit sia dal punto di vista utile cioè io non chiederei nulla di più dal kit anche perché sì non è il massimo ma è tutto ciò che vi serve per cominciare a rigenerare secondo me è anche più del dovuto comprare kit ancora più forniti sono veramente attrezzi che non andrete mai a utilizzare nel mondo dello svapo e soprattutto nel mondo delle rigenerazioni vi basta semplicemente per rigenerare vi basta avere un cacciavite a stella una tronchesina un paio di forbici e una pinza detto questo ragazzi potete rigenerare è la punta ovviamente che potrete utilizzare a seconda se avete un trapano a casa metete una punta da trapano quindi tecnicamente non è fondamentale poi per il resto non è assolutamente nulla indispensabile detto questo ragazzi adesso passiamo alle conclusioni finali del kit bene ragazzi questo è il kit della Go4Vape un kit che mi ha sorpreso perché funziona veramente bene anche se sono sicuro che il 50% delle cose che ci sono qua dentro le prenderete e le metterete da parte perché non le userete mai e questo è uno dei kit economici quindi figuriamoci dei kit che hanno ancora di più quello che utilizzerete una volta 7-8 anni fa quando si andava a rigenerare si usava semplicemente una punta da trapano una tronchesina e un pezzo di filo e del cotone addirittura chi usava il cotone idrofilo quindi figuriamoci oggi si utilizzano questi kit questo è uno dei kit economici diciamo la fascia media perché ci sono kit ancora più economici di questo dove veramente poi c'è poco però qui avete veramente tutto ciò che vi possa servire tutto e più per rigenerare ora ragazzi vi saluto ricordatevi che potete recensirmi sul sito flavorito.it e io aspetto le vostre recensioni per poter crescere dalle vostre opinioni detto questo ancora ragazzi io vi lascio e vi ricordo sempre che il fumo oramai è morto e vi ricordo